rosalie prudent in quella storia c'era veramente un elemento misterioso che né i giurati né il presidente né lo stesso procuratore della repubblica riuscivano a risolvere la giovane prudent di nome rosalie domestica tuttofare in casa dei coniugi varambo di nantes rimasta gravida all'insaputa dei padroni aveva partorito una notte nella sua soffitta poi aveva ucciso e sotterrato il neonato in giardino sembrava la solita vicenda di tutti gli infanticidi compiuti dalle donne di servizio ma rimaneva un fatto inspiegabile la perquisizione effettuata nella stanza della giovane prudent aveva condotto alla scoperta di un intero corredino per neonato cucito dalla stessa rosedì che per tre mesi aveva trascorso le notti a prepararlo un troghiere dal quale aveva comprato le candele per quel lungo lavoro e che lei aveva pagato di tasca sua era venuto a far testimonianza inoltre era stato provato che la levatrice del posto avvertita dalla stessa del suo stato le aveva dato ogni istruzione ogni consiglio pratico nel caso quell'evento avesse avuto luogo in un momento in cui non fosse possibile soccorrerla invece aveva cercato un posto a poissy per la giovane prudente che prevedeva il suo licenziamento in quanto i due varambo erano rigidissimi in fatto di morale erano lì per assistere al processo marito e moglie piccoli proprietari terrieri esasperati contro quella sgualdrina che aveva insozzato la loro casa avrebbero voluto vederla ghigliottinare sul momento senza processo la facevano precipitare con le loro deposizioni astiose che nelle loro bocche diventavano pesanti accuse la colpevole una bella ragazza della bassa normandia abbastanza istruita per la sua condizione piangeva ininterrottamente e non ribatteva niente si finiva col credere che avesse compiuto quel lato inumano in un attimo di disperazione e di follia perché tutto indicava che aveva sperato di conservare e allevare la sua creatura un presidente tentò ancora una volta di farla parlare di ottenere una confessione dopo averla estorta con molta benevolenza le spiegò che infine tutte quelle persone riunite per giudicarla non volevano la sua morte e magari avrebbero potuto avere pietà di lei allora lei si decisa il presidente le aveva chiesto sentiamo diteci innanzitutto chi è il padre della creatura sino ad allora lei lo aveva attaciuto con ostinazione ora guardando i padroni che avevano appena finito di calunniarla con tanta rabbia rispose con decisione è il signor Joseph il nipote del signor Varambò i due coniugi sobbalzarono e gridarono all'unisono non è vero che bugiarda è un'infamia il presidente impose loro di far silenzio e ripresero continuate e diteci come si sono svolte le cose allora lei cominciò a parlare di gran furia dando uno sfogo all'anima chiusa al suo povero animo oppresso e solitario versando il suo dolore tutto il suo dolore di fronte a quegli uomini severi che le erano finora apparsi come nemici e giudici senza pietà sì il signor Joseph quando venne in licenza l'anno scorso che cosa fa il signor Joseph Varambò è sotto ufficiale di artiglieria signor giudice rimase in casa due mesi due mesi d'estate io non pensavo a nulla quando lui ha cominciato a guardarmi e poi a farmi complimenti e poi a starmi intorno tutto il giorno io mi sono lasciata lusingare mi diceva sempre che ero una bella ragazza che gli piacevo che ero proprio quel che ci voleva per lui e anche lui mi piaceva sì che volete quelle cose contano quando una è sola sola come sono io sì sono sola al mondo signore non ho nessuno con cui parlare nessuno a cui raccontare i miei dispiaceri e non ho più né padre né madre né fratelli o sorelle nessuno e così quando lui ha cominciato a parlarmi spesso mi è sembrato un fratello che fosse ritornato poi mi ha chiesto di andare una sera in riba al fiume in modo da poter chiacchierare senza che nessuno ci udisse e io ci sono andata non so quel che è successo dopo mi stringeva alla vita io non volevo proprio non volevo non ho potuto resistere avevo una gran voglia di piangere tanto l'aria era mite c'era un bel chiaro di luna non ho potuto no ve lo giuro non ho potuto resistere lui ha fatto quel che ha voluto e così per tre settimane finché è rimasto io l'avrei seguito in qualsiasi parte del mondo ma lui se n'è andato non lo sapevo io d'essere rimasta incinta soltanto il mese dopo la ragazza scoppiò a piangere così forte che si dovette aspettare che ci fosse ripresa poi col tono ad un prete durante la confessione il presidente ricominciò continuate figliuola e lei raccontò ancora quando mi resi conto d'essere gravida andai dalla signora Boudin l'allevatrice che è qui e può dirlo e domandai come avrei dovuto regolarmi se non avessi potuto approfittare del suo aiuto poi un po' per notte ho preparato il corredino lavorando sino a luna ho cominciato a cercare un altro posto in quanto sapevo bene che mi avrebbero licenziata ma volevo restare in quella casa fino all'ultimo per risparmiare quanto potevo dato che non ho niente e che il piccino mi sarebbe costato dunque non volevate ucciderlo oh no certo che no signor giudice e allora perché l'avete ucciso è andata così signore tutto è avvenuto prima del previsto le doglie mi hanno preso in cucina mentre venivo di lavare i piatti i padroni già dormivano salgo le scale a fatica aggrappandomi alla ringhiera mi corico per terra sul pavimento per non sporcare il letto ci è voluta un'ora forse due o tre non lo so tanto forti erano le sofferenze poi mentre spingevo con tutta la mia forza ho sentito che usciva e l'ho raccolto oh com'ero contenta ho fatto tutto quello che m'aveva detto la signora Boudin tutto e poi l'ho messo sul letto ed ecco che mi riprende un male da morire se sapeste cosa vuol dire non vi fareste tanta meraviglia sono caduta in ginocchio poi supina sul pavimento da capo i dolori un'altra ora forse forse due così sola sola e poi un altro un altro piccino due sì proprio due l'ho preso come il primo e l'ho messo sul letto fianco a fianco due due piccini era possibile ditelo uno sì privandomi di tutto ma due allora ho perso la testa che ne so io cosa ho fatto potevo scegliere dite che ne so io mi sono vista finita ci ho messo il guanciale sopra senza rendermi conto di quel che facevo due non potevo tenerli e mi sono colicata sopra anche io poi sono rimasta a spagimare e a piangere fino all'alba che ho veduto spuntare dalla finestra sotto il cuscino erano morti certamente allora li ho presi tra le brazza sono scese nell'orto lì c'era la vanga del giardiniere e li ho sepolti sotto terra quanto più profondo ho potuto uno qui l'altro là non insieme perché non parlassero della loro mamma se è vero che dopo parlano i morticini che ne so io e poi di nuovo nel letto sono stata tanto male che non ho potuto alzarmi e hanno chiamato il medico lui ha capito subito era verità signor giudice fate quello che volete sono pronta a tutto una metà del pubblico si soffiava il naso per non piangere qualche donna si inghiozzava il presidente domandò e l'altro dove lo avete sepolto e lei quale dei due avete trovato ma quello quello che era nell'aiola dei carciofi l'altro l'ho sepolto tra le fragole vicino al pozzo e riprese a piangere così dirottamente da commuovere tutti i cuori Rosalie Prudin fu assolta grazie a tutti Grazie a tutti